L'azienda Manfi è concentrata su Montalcino dove abbiamo 2.850 ettari di estensione, un 900 a vigneto e poi abbiamo un'azienda in Piemonte a Strevi dove facciamo tutti i bloc del Piemonte. Ora ci stiamo un po' allargando e diversificando con la costa toscana, Bolgheri e nel cuore del Chianti. La novità che abbiamo portato quest'anno a Porto Cervo è la pettegola che è un vermentino della costa toscana. Abbiamo portato questo per fare anche un paragone con i grandi vermentini che hanno una grande storia qua in Sardegna e vedere un po' la reazione che si può avere dal pubblico che l'assaggia. Questa bottiglia è ottima per un aperitivo oppure sui pesci, crostaci soprattutto e su dei primi piatti freschi, primaverili a base magari di verdure. È meraviglioso e molto molto accogliente, come del resto è storiamente la Sardegna.